Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, quest'oggi ritorniamo a parlare di verde pubblico, ritorniamo a parlare di parchi e lo facciamo spostandoci in un'altra zona della città di Venezia, siamo esattamente a Favaro nel parco di via Montecelo a pochi giorni di distanza dal filmato che abbiamo potuto vedere del parco delle terre perse al Lido di Venezia dove anche lì abbiamo potuto intravedere, abbiamo potuto osservare come non esistono delle condizioni di sicurezza tra il parco e il manto stradare che poi transitano i veicoli privati e pubblici ed oggi qui noi ritroviamo in questo parco, nel parco di via Montecelo, la stessa situazione del parco al Lido di Venezia una condizione inesistente per quanto riguarda la sicurezza data soprattutto da una recinzione inesistente Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, qui ancora più grave perché il parco dà non solo sulla strada ma soprattutto sui binari del tram, sui binari del tram che fa qui capolinea in direzione dal deposito o proveniente dalla piazza di Favaro e amici come possiamo osservare in questo parco non c'è nessun tipo di recinzione tra il parco e il manto stradale. È una condizione che abbiamo potuto già osservare nel gennaio del 2010 quando abbiamo scritto una mail all'ambiente di questa circoscrizione di Venezia che poi è stata girata al Comune, cosa che pubblicheremo tramite Venezia Laguna Nostra chiedendo anche che fossero arricchite le giostre, queste misere giostre dove i bambini ovviamente non si divertono perché sono molto poche e soprattutto mettendo in sicurezza questa sorta di imbuto che diventa una vera e propria vasca quando ci sono anche delle minime piogge ma soprattutto dei tappetini antiurto e antiscivolo che devono essere messi in qualsiasi parco come normativa c'è 1177 e 1178. Benissimo, a distanza di mesi cari amici di Venezia Laguna Nostra non solo queste cose non sono state fatte ma soprattutto la recinzione quella che poi protegge i bambini veneziani fruitori di questo parco dal manto stradale e soprattutto, guardate amici, dal convoglio rosso, dal translore così chiamato, detto comunemente tram, che appunto qui fa capolinea come possiamo osservare è veramente una situazione che non ha né capo né coda che dovrà essere affrontata nei prossimi giorni tramite questo filmato e tramite un'altra segnalazione questa è la situazione, il parco non è cambiato nel giro di dieci mesi non è stato fatto nulla, per il momento è tutto con il tram che se ne sta andando in direzione via Cappuccina anche se abbiamo la scritta stazione FS cosa che non sappiamo perché il tram non arriva ancora in stazione di Venezia Mestre io vi saluto Tello Aquilotti Laguna Venezia Chao Io ti lembro